Un'altra volta. Ancora? Lei non sta collaborando. E voi mi fate perdere tempo. Si calmi. Lei qui è al sicuro. Cos'è stato? Niente. Stanno tornando a prendermi. Avanti. Dall'inizio. Si sforzi di ricordare. Pioveva. Quando ti prendono non sai cosa aspettarti. Non sai perché ti scelgono. Né quando finirà. Non fa male. Ti dicono che lo fanno per te. Che è necessario. Che ti servirà. E alla fine non sai più chi sei. A volte mi lasciavano in pace. E allora pensavo che il peggio era passato. Che oltre alla vaura, agli ordini, alle regole ci fosse qualcos'altro. Qualcosa di straordinario. ne ero certo. Ne ero certo. Ho fatto tutto. Tutto quello che mi dicevano di fare. senza mai protestare, senza fermarmi un attimo. Senza sbagliare nulla, non un gesto, non un passo. Non bastava mai. E poi tutti quei corpi. I corpi? Non gli servivamo più. E poi? E poi? E poi? E poi? Voi dovete aiutarci. Aiutare chi? Di chi sta parlando? Noi! Io ero... Ma lei si ricorda come è arrivato qui? Penso che ora vorrei andare. Resti ancora un po' qui. No, sul serio. Grazie per il suo tempo, ma ho un sacco da fare le capisce. Torni qui, su. Ricominciamo da capo. No, io non voglio ricominciare da capo. Io voglio andarmene da qui. Vuole seguirci, per favore? Ho scelta. Stia fermo. Un'altra, per favore. Un'altra 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 un'altra